Giordani Bruno, Girolametti Sandra, Guidarelli Piero, Leli Giovanna, Malefora Lilia, Mattioli Claudia, Meloni Leonardo, Mariano Giuseppe Luciano, Pellegrini Roberto, Peverini Dimitri, Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Forza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Stroppa Renzo, Tavolini Claudio, Urbani Urbano, El Idrissi Abdel Salam. Con il consigliere Girolametti che è appena entrato, 18 presenti, la seduta è valida. Devo giustificare l'assessore Galli, nomi ascoltatori, consiglieri Bonafoni, Pellegrini, Solari. Per comunicazione il sindaco, prego. Comunicazione, come vedete la giunta e come avete letto dalla stampa ha avuto un cambiamento in quanto l'assessore Patrizia Rossi, che ringrazio per il lavoro svolto, per la collaborazione che ha prestato e che saluta anche tutto il consiglio, ha annunciato le sue dimissioni, le ha presentate venerdì mattina, concordemente con me, rispetto a un percorso che abbiamo condiviso in questo mese di maggio. Mi spiace che abbia lasciato, credo che comunque i suoi sono motivi personali, che ha adotto e che ha presentato anche nella conferenza stampa di annuncio della sostituzione. Ho ritenuto opportuno procedere immediatamente alla sostituzione dell'assessore, senza tenere periodi di vacazio che poi avrebbero magari fomentato chissà quale pensiero. Succede spesso che quando la politica lascia un vuoto poi ci si metta dentro tutto il possibile di tutto. Questa è una questione personale che ho voluto superare con la richiesta di collaborazione a Barbara Pallucca, che ha accettato e mi ha dato la sua disponibilità per dire la verità come era successo un po' per Patrizio, l'ho forzata, devo dire la verità, io le ho chiesto che avevo piacere che venisse a collaborare con me, perché questo lavoro a volte sembra così semplice, ma poi già Barbara quando martedì verificavamo le cause di incompatibilità diceva non è che c'è qualche causa di incompatibilità per caso, perché qui la cosa è più complicata di quello che pensavo. Come tutti quando affrontano un lavoro nuovo, chiaramente si possono trovare in una vicenda che è nuova e particolare e originale. Mi chiedo di accoglierla come avete fatto con Patrizia, con lo stesso spirito, con lo stesso collaborazione, farà parte della nostra squadra io credo fino alla fine del mandato. Mi auguro che potremo lavorare insieme come abbiamo fatto bene con Patrizia, faremo bene con Barbara, le auguro un gran buon lavoro perché abbiamo bisogno della sua collaborazione e del suo impegno. Credo di aver fatto quello che dovevo, spero di... come sempre, no spero, io in questo caso sono convinto di aver fatto la scelta giusta, ma spero che lei si trovi bene e possa portare le sue capacità all'interno dell'amministrazione e dei rapporti con i consiglieri e col consiglio comunale. Già ha fatto alcune iniziative perché l'insediamento, l'atto del sindaco è avvenuto lunedì mattina. Quindi buon lavoro Barbara. Bene. Continuiamo con le comunicazioni, prego consigliarcioni. Grazie Presidente. No, io in maniera molto veloce volevo portare l'attenzione, poi a questo seguiranno sicuramente degli atti e delle sottolineature. Allora, sono due vicende, una fa riferimento alla nuova stazione radiobase che è stata installata sul tetto dell'Oianus Hotel Fabriano. Allora, noi appena abbiamo visto l'installazione di questa antenna, voglio ricordare che c'è un ampio dibattito in Italia sull'opportunità o meno che nei centri abitati ci siano installate queste stazioni radiobase. Però la cosa inquietante è che noi abbiamo fatto l'accesso agli atti recependo tutta la documentazione relativamente all'autorizzazione all'installazione di questa nuova stazione radiobase, ricordo sul tetto dell'Oianus Hotel Fabriano. La cosa inquietante è che fra l'altro abbiamo fatto un passaggio nei vari uffici perché pensavamo, fra l'altro dopo aver votato la mozione del principio di precauzione, che comunque ci sia stato un passaggio anche in altri uffici come quello ambiente. Invece no, questa autorizzazione è stata data semplicemente con un inizio attività e quindi noi abbiamo fatto un'accesso agli atti per verificare un po' di cose. La cosa inquietante è che questa stazione radiobase non doveva venire autorizzata ma semplicemente per una cosa, perché siamo andati a prendere il regolamento del comune di Fabriano che dice chiaramente questa cosa, allora la distanza degli edifici, le costruzioni destinate ad abitazione, ah no scusate, distanza da scuole di qualsiasi tipo o d'ordine, voglio ricordare che sotto c'è l'istituto liceo scientifico, che qui dà delle distanze di 400 metri, siamo ampiamente all'interno di questa cosa. Un'altra cosa è la distanza fra due installazioni, voglio ricordare che già sul tetto dello Iano si rappresenta una stazione radiobase di Vodafone, quindi significa che la seconda stazione radiobase non doveva essere autorizzata, bastava che il funzionario che ha autorizzato questa installazione avesse eletto il regolamento comunale e questa stazione radiobase non doveva essere autorizzata. Fra l'altro, e lo dico al Sindaco proprio perché lui è la massima autorità dal punto di vista sanitario del nostro comune, che ci sono arrivate segnalazioni di persone che hanno pacemaker e che abitano in zona, che hanno avuto delle interferenze da quando c'è l'installazione di questa antenna, tanto è vero che sono dovute correre presso l'ospedale perché l'ospedale è dotato di un sistema che praticamente rimette in ritmia questi apparecchi elettronici e sono tutelati dalle onde elettromagnetiche. Questo lo volevo sognalare, a questo se l'ente non si attiva seguiranno vari esposti, però la cosa inquietante Sindaco, lo dico a lei, è che continuiamo noi a vedere degli atti dove ci sono i funzionari all'interno del comune che disattende una procedura minima che è quella di andare a vedere la prima cosa che fa vista che è il regolamento. E poi ripeto, su questi temi che sono temi molto delicati, io direi che vanno coinvolti anche altri uffici perché noi quando siamo andati a fare l'accesso agli atti io pensavo che una nuova stazione radiobase passasse anche per gli uffici ambiente. e il dirigente mi ha confermato quando ci siamo sentiti che fratto era difficilissimo sapere chi stava gestendo questa autorizzazione. Alla fine era semplicemente una dichiarazione di inizio attività. Siccome il tema è molto delicato, io spingo tutto a riflettere su queste cose, continuiamo a avere dei funzionari all'interno del comune che fanno queste cose senza nessun tipo dei criterio. Però sono cose che purtroppo sono pericolose e vanno a ledere l'incolumità della nostra comunità. Un'altra cosa veloce è che io ricordo quando ci fu quel Consiglio Comunale dove l'opposizione uscì e si discuteva la Tares. Allora in quel caso la maggioranza, io avevo mandato un protocollo anche al Sindaco, era intestato sia al Presidente, al Sindaco, all'Assessore Tini, al Segretario, dove facevamo riferimento a quel famoso punto dell'ordine del giorno che parlava dell'accordo tra molti servizi estera. E io in quell'occasione chiedevo un rinvio diciamo di questo punto dell'ordine del giorno perché altri consigli comunali nella provincia di Ancona avevano rimandato la discussione e noi non avevamo raccolto le informazioni minime per poter prendere una decisione in serenità. Non ultima quella di sapere, e ad oggi ancora non lo sappiamo, quali sono le reti gas che ci sono di proprietà del comune di Fabriano. Allora in quell'occasione voi avete pensato non solo di non rinviare il tema ma di votarlo in tranquillità proprio perché siete rimasti soli come maggioranza e l'avete votato in tranquillità. C'era una questione appesa che era quella che Estra era una società indagata, perturbativa ad asta in un rapporto con il comune di Prato. E ricordo benissimo che il Sindaco in un intervento disse chiaramente, poi dopo se in funzione di questa vicenda succederà qualcosa, torneremo sulla decisione e vedremo il da farsi. Ecco questa cosa caro Sindaco è successa perché non solo Estra sta incominciando a parlare di puntare a quotarsi in borsa, ma è successo anche questo, che l'autorità garante la concorrenza del mercato con provvedimento 23.243 con il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ha praticamente condannato Estra a una multa di 276.132 euro proprio in funzione della turbativa ad asta e del contenzioso che aveva col comune di Prato. Quindi anche da questo punto di vista chiedo gentilmente di intervenire anche perché il Sindaco si era preso proprio l'incarico e l'obbligo eventualmente a questa vicenda di prendere provvedimenti. Fra l'altro in diverse riviste continuiamo a avere, siccome Avenali quando venne in commissione disse che noi facevamo questo accordo perché era l'unico soggetto che come la multiservizi era un soggetto partecipato dai comuni. Ecco da più parti arrivano informazioni per la quale l'Estra è in fase di privatizzazione. Quindi anche su questa cosa io vorrei che tutti quanti insieme riflettessimo e soprattutto quando si prendono queste decisioni andare ad approfondire un po' più le cose. Grazie, grazie. Bene consigliere Arcioni, sempre per comunicazioni. Consigliere Rossi, prego. Grazie Presidente, io lo sarò velocissimo. Quel regolamento che esiste sulla telefonia mobile, lo so, l'avevamo scritto noi, l'avevo presentato io nella scorsa amministrazione e cosa che non aveva fatto la scorsa amministrazione e che invito caldamente a fare adesso è il piano di settore che è l'attuazione tecnica di quel regolamento sul territorio. In quel regolamento, in quell'ordine del giorno che avevo dal Consiglio Comunale addirittura si prevedeva lo spostamento di quelle che venivano considerate dannose. Quindi se noi diamo un'attuazione tecnica finalmente a Fabriano con un regolamento e con un piano di settore, potremmo dare finalmente una risposta su questa questione delle antenne secondo un principio di precauzione che ritengo sia quello più valido per l'approcciarsi ai cittadini e alla cittadinanza. Bene, consigliere Rossi, abbiamo esaurito il punto numero... Ah, prego il sindaco. Volevo far presente al consigliere Arcioni che su segnalazione di un cittadino, ex consigliere comunale, circa 30 giorni fa, ho avviato un ragionamento interno per capire che cosa... perché quell'antenna, siccome sta direttamente anche sul mio ufficio, come lei ben sa, credo, sotto le case dei vicini, ci siamo fatti una chiacchierata perché l'ho incontrato per strada e ho avviato una riflessione interna per verificare tutte le condizioni per cui l'autorizzazione è stata rilasciata. Però quindi adesso approfondiremo, faremo tutti i casi necessari e andiamo a vedere come stanno le cose. Bene, è esaurito il punto numero 1, passiamo al punto numero 2, ovvero approvazione verbali della seduta del 29 aprile 2014, dal numero 67 al numero 73 e della seduta del 13 maggio 2014, dal numero 74 al numero 85. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti 19, votanti 19, astenuti 6, favorevoli 13, contrari 0. Astenuti Leli, Urbani, Beverini, Solari, Arcioni Rossi, il Consiglio approva. Sono le 18 e 17, inizia l'ora delle interpellanze e delle interrogazioni. Punto numero 3, interpellanza sul bando di gestione della Pinacoteca Civica Bruno Molaioli, presentata al gruppo consigliare 3.0, illustra il consigliere Solari, il relatore e l'assessore, no è il sindaco. Prego consigliere Solari. Grazie Presidente. L'interpellanza del 25 febbraio. Premesso che la giunta municipale nella seduta del 9 giugno 2011 ha manifestato la volontà di gestire i servizi riguardanti le strutture museali cittadine tramite un contratto di concessione. Nella stessa seduta ha prorogato l'affidamento del servizio di gestione della Pinacoteca Civica alla cooperativa sociale Il Tulipano, alle medesime condizioni previste nel precedente capitolato, fino all'espletamento della procedura per l'affidamento in concessione a terzi dei servizi per il pubblico, riguardanti le strutture museali cittadini. Con deliberazione del 28-11-2012, la giunta municipale ha preso atto che la gestione unitaria attraverso il sistema della concessione non era realizzabile nell'immediato, in quanto gli immobili che dovranno ospitare i suddetti servizi erano oggetto di lavori di ristrutturazione o adeguamento. La giunta comunale, nella seduta del 3-12-2013, ha espresso parere favorevole in merito all'affidamento del servizio di gestione della Pinacoteca tramite procedura negoziata su invito, riservata alle cooperative sociali di tipo B. Preso atto che il 15 giugno 2011 è scaduto l'affidamento del servizio di gestione della Pinacoteca alla cooperativa sociale Il Tulipano, preso atto che da tale data, in attesa di espletare le suddette procedure di gara, onde evitare la chiusura della Pinacoteca e garantire continuità nell'erogazione dei servizi, il Comune ha provveduto l'affidamento temporaneo del servizio con determinazioni mensili o trimestrali alla cooperativa sociale Il Tulipano. Considerato che il 2 marzo 2014 scadrà, ripeto era di febbraio, l'ultimo periodo di affidamento temporaneo regolamentato dalla determinazione dirigenziale, si interroga il Sindaco o il suo delegato per conoscere se dopo quasi tre anni di affidamenti in proroga della gestione della Pinacoteca in quale data è prevista la pubblicazione di un bando di evidenza pubblica per la gestione della stessa, se e per quante volte si può ricorrere a norma di legge all'affidamento temporaneo come nel caso di specie, se dopo il 2 marzo 2014 quanti altri affidamenti temporanei al servizio si renderanno necessari, per quale motivazione il recente appalto per la gestione della biblioteca Romualdo Sassi scaduto il 21 gennaio 2014 è stato aperto a tutte le tipologie di cooperativa, mentre l'appalto per la Pinacoteca è stato riservato alle cooperative di tipo B. Se nel bando in corso di scrittura e deliberazione da parte del Comune per la gestione della Pinacoteca saranno valorizzate nella valutazione delle offerte le proposte migliorative provenienti dai soggetti concorrenti relativamente al rapporto con altre strutture culturali e il territorio, al marketing museale, alla comunicazione, alla proposta di iniziative didattiche e di valorizzazione e quanto altro sia ritenuto necessario per sostenere lo sviluppo e la Pinacoteca civica. Bene Consigliere Solari, prego Sindaco. Poi avremo occasione di parlarne successivamente di quello che è successo e quindi nel punto all'ordine del giorno, però voglio rispondere all'interpellanza perché si è per lo meno da giugno del 2012 quando scadevano alcuni appalti, noi siamo andati in proroga su questo servizio perché l'obiettivo nostro è quello che lei citava nelle ultime note dell'interpellanza, cioè cercare di potenziare questo servizio, farlo diventare un servizio un po' più di qualità perché attualmente era solo un servizio di custodia fatto da due persone, 50 mila euro coprivano malappena il servizio di custodia e quindi è una risorsa minimale, però per fare quello che lei chiede, un progetto di sviluppo, di valorizzazione, di rilancio, questa parte avrebbe dovuto vedere altre figure all'interno della Pinacoteca, non solo due custodi che si sostituiscono e che coprono il servizio di apertura e chiusura dell'immobile, ma magari una figura che potesse illustrare o presentare ai turisti, alle persone che vengono, guidarli all'interno del percorso museale, cosa che purtroppo non siamo stati in grado di fare per motivo delle risorse finanziarie, chiaramente aumentare le spese sulla Pinacoteca ci avrebbe creato una serie di notevoli difficoltà perché poi le spese non sono solo queste, sono le spese di climatizzazione dell'immobile, sono le spese di energia elettrica che supportiamo e che sono piuttosto elevate perché le tavole del 300 hanno bisogno di una costante temperatura, una costante umidità che va mantenuta con costi che non entrano nel bando di gara ma che sono costi a carico della comunità fabianese e quindi per questo si era proceduto però nella speranza di poter trovare le risorse, di aumentare la quota da dare in appalto, non più 50 mila euro ma metterci un po' più di risorse per poter fare un servizio più dignitoso, più di qualità, la cosa non è stata possibile e siamo arrivati fino a marzo quando abbiamo deciso, qui mi scrivono che gli affidamenti temporanei fatti fino a oggi, previsti fino al 31 maggio oltre ad eventuale proroga tecnica per terminare la gara, sono consentiti se effettuate la stessa ditta che si era precedentemente aggiudicata all'appalto per un massimo di tre anni in attesa all'estretamento delle procedure di gara e quindi in teoria siamo nei termini. L'idea è quella però che non si può fare questa attività a meno che non ci fosse la possibilità di un cambiamento, di una svolta alla Pinacoteca. Il 31 marzo quando scadeva l'ultimo appalto si è manifestata questa ipotesi di realizzare la mostra del Gentile e quindi di avere la Pinacoteca trasformata e occupata con una mostra che va dal 25 luglio alla fine dell'anno e allora si è proceduto a una proroga tecnica fino al 31 maggio, proroga che è scaduta e quindi non è stata più rinnovata, attualmente e per questo stasera proponiamo in discussione la convenzione che stabilisce che la Pinacoteca venga gestita per sei mesi dalla fondazione Cassa di Risparmio, quindi fino a dicembre-gennaio e quindi avere il tempo per ragionare anche chiedendo altri contributi esterni perché noi più di quella cifra non siamo in grado di mettere per la gestione della Pinacoteca, vedere se c'è la possibilità di fare un project, un'attività che poi dovremmo anche discutere come mi pare voi avevate chiesto anche in un'altra interpellanza, la possibilità di discutere in commissione e poi magari portare un atto di indirizzo in consiglio per far sì che la Pinacoteca cambi la modalità gestionale. Abbiamo sei mesi di tempo, si possono fare delle riflessioni, vedremo in sede di bilancio se e come reperire le risorse nel pluriennale 2015, 2016, 2017 per vedere se ci sono le risorse per fare una cosa diversa, ma questo si tratta di ragionare insieme anche su quel rapporto che poi avevamo detto va costruito con il Museo Iocesano che sta esattamente lì di fronte, con le altre strutture della nostra città a livello culturale, se si potesse fare un progetto integrato è un sogno, ma ci sono cose che secondo me vanno provate a mettere in cantiere, anche se le spese in questo campo sono in questo momento al limite, non siamo in grado di avere risorse ulteriori da destinare, questo credo che possa essere comunque una ipotesi solutiva sulla quale discutere in questi mesi, approfittiamo dei mesi da luglio a ottobre, diciamo così perché poi bisogna fare delle procedure di gara, tutto quello che è necessario per identificare un percorso, l'assessore alla cultura avrà anche questo tra i compiti, quale destinazione dare a questo plesso, quale futuro, quale organizzazione anche il rapporto con le altre strutture pubbliche e private che sono qui sul territorio, per private intendo il Museo della Carta e Filipprana, ma anche a questo punto verificare col Museo della Bicicletta, col Museo della Lì alla Fondazione per quanto riguarda Quirino, Ruggeri e Mannucci, vedere se è possibile trovare una sinergia che ci permetta fare delle cose dedicate a un turista più attento che quando entra in Pinacoteca può avere anche una guida. So che la Fondazione è impegnata in un progetto che all'interno della mostra dovrebbe avere la possibilità di realizzare delle audioguide e già questo potrebbe essere un buon viatico per fare questa operazione e potremmo avere quindi la possibilità di avere intanto nella prima fase delle audioguide per i turisti da consegnare a chi entra in modo che quando si presenta davanti a un'opera ci ha una presentazione, un'idea di quello che sta vedendo, perché la nostra Pinacoteca ha delle opere preziosissime, dicono che sia una delle più belle delle marche, come anche qualità dei pezzi esposti. Il Muzzi probabilmente si avvicina moltissimo alle qualità del gentile, domani sera, invito tutti naturalmente a essere presenti, presenteremo il Politico Restaurato che è una delle opere più preziose della nostra Pinacoteca, sicuramente quella di più grande valore, lo ripresenteremo a tutta la città, sarà aperto per dieci giorni straordinariamente, la Pinacoteca anche se in fase di organizzazione per la mostra sarà aperta dieci giorni fino al 24 maggio, proprio per ammirare il Politico che torna restaurato da Firenze con un impegno anche consistente dei restauratori privati. Penso che questo possa essere, poi dopo specificherò la parte del 25 luglio e poi con la convenzione che andremo a discutere nel punto successivo all'ordine del giorno. Spero di aver dato una risposta abbastanza significativa in un momento di trapasso. Sì, sì, per replica, prego. Non ho capito, adesso il bando è in fase di riscrittura, no? Il bando è sospeso, c'era un bando ipotizzato per una gestione come la precedente, abbiamo sospeso da marzo, abbiamo sospeso tutto perché andavamo alla proroga di maggio e poi ridiscutere tutto il ragionamento. Qui non è che si apre, si apre una fase nuova. Vediamo, se abbiamo le risorse da destinare, anche insieme ad altri o con l'apporto di privati, possiamo pensare a qualcosa di diverso. Se non siamo in grado di pensare a qualcosa di diverso, torneremo a aborigine e ricostruiremo un percorso tale che ci consenta di avere perlomeno la pinacoteca fruibile, perché anche negli ultimi quattro mesi, grazie alla fondazione, abbiamo avuto il biglietto gratuito che potremo ripetere nel 2015. Il biglietto gratuito significa aumento di ingressi e compagnia, forse un rilancio, ne parlavamo, adesso non ho avuto tempo di parlarne con l'assessore Pallucca, Barbara, ma ragionavamo con Patrizia, con l'assessore dalla cultura, che bisognerebbe fare una cosa che negli anni non abbiamo percorso mai, che i bambini e i ragazzini delle nostre scuole perlomeno visitassero la pinacoteca e il museo della carta una volta in un ciclo di studi, perché andiamo a vedere la pinacoteca di Gubbio, andiamo a vedere le catacombe di Roma, ma i ragazzi non vedendo la nostra storia, i nostri percorsi perdono secondo me un pezzo di cultura e di storia cittadina e uno degli obiettivi che ci eravamo posti all'inizio e che stavamo percorrendo è quello di creare un pool di insegnanti che preparassero un progetto, un PEI, un piano educativo, scusate, come si chiama? Il piano che fanno a scuola le scuole per fare POF, piano di offerta formativa che includesse perlomeno un passaggio di storia della città, il 300 oggi si studia alle medie sostanzialmente perché non si ripete più il ciclo scolastico, arrivano ai Romani quasi in quarta elementare e quinta, si arriva all'inizio alla fine dell'impero romano, andare un pezzetto sopra alle medie e quindi quando si arriva a studiare il 300, il 400 si potesse vedere la nostra città e prevedere visite guidate, percorso della pinacoteca, un giro per i palazzi storici e un giro anche per la città, ci sono classi che l'hanno fatto negli anni precedenti, hanno fatto dei lavori bellissimi che hanno prodotto e che hanno portato secondo me risultati significativi, si tratta di fare dei POF organizzati in questa modalità, è un obiettivo da percorrere secondo me per valorizzare quello che abbiamo. Bene, prego consigliere Solari. Grazie Presidente, sì, le risposte vanno nella direzione che auspicavamo, l'importante è che il prossimo bando faccia sì che non riservi solamente la custodia della pinacoteca ma appunto vada a includere anche altre attività, noi siamo disponibili a parlarne anche in commissione, ad aspettare il vostro progetto ma integrarlo anche con nostre proposte. Quindi grazie Presidente. Bene consigliere Solari, passiamo al punto numero 4, interpellanza relativa all'eventuale uso di sostanze diservanti nocive. Da parte dell'ente provincia è stata presentata al gruppo NCD, illustra il consigliere Urbani, il relatore e l'assessore Aglianello. Prego Urbani. La faccio io Presidente. Premesso che come riportato nell'articolo di stampa del resto del Carlino di giovedì 20 marzo scorso, intitolato, come dice Cardonia Verdi, la provincia usa da anni un diservante nocivo per la nostra salute, nel quale il consigliere De Verdi dichiara, sono anni che la provincia di Ancona utilizza per la pulizia dei margini stradali di propria competenza prodotti chimici contenenti il glifosato, un diservante che l'ISPRA annovera tra le sostanze inquinanti maggiormente presenti nelle acque superficiali e la cui tossicità è stata attestata da numerosi studi e ricerche scientifiche a carattere nazionale e internazionale. Considerato che il Sindaco Giancarlo Sagramola ha ricoperto, prima dell'elezione a Sindaco del Comune di Fabriano, la carica amministrativa di Vice Presidente della provincia di Ancona, la tutela dell'ambiente e paesaggio per la qualità della vita è inoltre uno dei punti forti del programma elettorale del Sindaco Sagramola, nel quale si legge promozione del senso di integrità del creato quale forma essenziale di responsabilità morale per il rispetto della vita, con politiche integrate di tutela e valorizzazione dell'ambiente, azioni di tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio, con lotta all'inquinamento e la difesa del suolo. Tutto ciò premesso chiediamo se il Sindaco Sagramola intende intervenire per chiarire e verificare l'effettivo utilizzo del diservante glifosato o di altri prodotti chimici nocivi per il diservo dei margini delle strade della provincia di Ancona. Se è possibile attuare dei controlli su eventuali inquinamenti derivanti da prodotti suddetti anche nel territorio del comune di Fabriano, se è possibile inoltre interdire o quantomeno limitare l'utilizzo del prodotto glifosato ritenuto altamente nocivo per la salute sia degli uomini che degli animali, sollecitando in tal senso la provincia a preferire laddove possibile lo sfalciamento al diservo chimico. Chiediamo infine come l'amministrazione intende tutelare concretamente la sicurezza dei cibi coltivati a terra dall'utilizzo di eventuali agenti inquinanti diservanti. Grazie. Bene, prego Assalianello. Allora, a seguito di questa interpellanza io ho contattato la provincia di Ancona per avere tutte le informazioni in merito a quanto richiesto e l'ingegner Sbriscia Massimo, dirigente della provincia di Ancona, mi ha inviato del materiale che è la certificazione del Ministero della Salute sul prodotto che utilizzano, che è il Rodeo Gold, le caratteristiche tecniche, composizione, interventi, provvedimenti in caso di ispersione, manipolazioni, immaganezzimento, cioè tutto quello che deve essere e come deve essere trattato il prodotto, le informazioni tecnologiche, le informazioni ecologiche, le osservazioni sullo smaltimento e tutte altre serie di informazioni che io ho e che posso chiaramente consegnare, in più mi ha inviato un suo scritto che adesso leggerò, in relazione alla questione da lei posta circa la presunta pericolosità per la salute pubblica e la sicurezza ambientale dell'impiego… Presidente, in relazione alla questione da lei posta circa la presunta pericolosità per la salute pubblica e la sicurezza ambientale dell'impiego dei disservanti nei cigli stradali per il controllo delle infestanti, le rappresento quanto segue. Il decreto legislativo 14 agosto 2012, numero 150, recante, attuazione della direttiva 2928 CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, prevede tra i vari aspetti all'articolo 6 l'adozione di un piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Tale piano definisce gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. Il piano inoltre promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e dei metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, al fine di ridurre la dipendenza dei prodotti fitosanitari, anche in relazione alla necessità di assicurare una produzione sostenibile rispondenti ai requisiti di qualità stabiliti dalle norme vigenti. Il suddetto piano d'azione è stato adottato con decreto ministeriale del 22 gennaio 2014, Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 35 del 12-2-2014. Fra le misure vi indicate si riporta in maniera integrale la seguente, che è la misura per la riduzione e eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade, che evito di leggere perché è un articolo di legge molto lungo ma che poi semmai fornisco, ma vado a quello che è poi il commento a quello che voi avete chiesto e le risposte. L'amministrazione provinciale utilizza ormai da anni per il controllo degli infestanti il prodotto Rodeo Gold della Monsanto Agricoltura Italia S.P.A. Tale prodotto è un'erbicida di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni annuali e perenni, da impiegarsi per il diserbo totale degli incolti, aree rurali ed industriali, aree ed opere civile, seri ferroviarie, argini di canali, fossi e scolini in asciutta. L'erbicida è rapidamente disattivato a contatto con il terreno, quindi la sua presenza sullo stesso non causa alcun danno alle culture perenni, arbustive e arboree. Disservante contiene solo il principio attivo sale isopropilaminico del glisofate in acqua senza aggiunta di coformulanti o coadiuvanti. Ricordo in proposito che i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo se sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, conformemente alle disposizioni previste dal Decreto legislativo numero 194 del 17 marzo 1995 e dal DPR 23 aprile 2001 numero 290 e assimilati. Nei casi di specie, come potrà agevolmente verificare, nella banca date dei prodotti fitosanitari al seguente link www.salute.gov.it slash fitosanitari vs web, trattino basso, new slash fitosanitari servlet, il rodeo gold è regolarmente registrato e autorizzato. Numero registrazione 10672 del 22 1 2001, scadenza autorizzazione 31 12 2015. Da rilevare che il prodotto risulta essere esente da classificazione di pericolo. In conseguenza, per il suo acquisto di impiego, l'operatore non necessita del possesso dell'apposita autorizzazione, comunemente chiamata patentino, indispensabile per la trattazione di prodotti fitosanitari etichettati e contrassegnati con i simboli e indicazioni di pericolo, molto tossico, tossico e nocivo. In ordine alla compatibilità dell'uso dell'erbicida in argomento con le disposizioni di cui al citato paragrafo A 5.5 del decreto ministeriale del 22 gennaio 2014 si specifica che, come rilevabile dalla scheda di sicurezza del prodotto che si allega alla presente, il rodeo gold non presenta alcuna delle fasi di precauzione che ne impongano sostituzione e o limitazione d'utilizzo. Nel prodotto contiene sostanze classificate come attive per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva. Il sale isopropilaminico del glisofate può presentare al massimo tossicità cronica per gli organismi acquatici. Pertanto, l'utilizzo di tale prodotto risulta pienamente compatibile con la normativa vigente. Non risultano lo Stato attuale ancora emanati criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari nella rete stradale e autostradale previsti dal paragrafo A 5.5 del decreto ministeriale del 22 gennaio 2014. Queste amministrazione si adeguerà naturalmente a detti criteri non appena verranno emanati. Relativamente alla possibilità di estendere al servizio di vigilanza ambientale le competenze di sorveglianza territoriale prevede dal decreto legislativo 150 2012, si ricorda che detta normativa prevede all'articolo 23 che siano lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, a coordinare i controlli necessari all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di che trattasi. Per completezza di informazioni dico anche che il principio attivo glisofate è autorizzato dal Ministero, sottolineo che tale principio non è da confondere come sostenuto da qualche cittadino con l'infamigerato agente Orange, aggiungo infine che ben consapevoli dei possibili impatti negativi sulla qualità delle acque si adottano le seguenti modalità d'uso. Nell'applicazione il personale incaricato segue con precisione le modalità di impiego e precauzioni indicate nella scheda tecnica del prodotto allegato. È stato attrezzato un apposito mezzo per avere la sicurezza di una corretta applicazione con ugelli antideriva. Viene posta la massima attenzione nell'escludere l'applicazione in concomitanza con eventi meteorologici avversi, previsioni di piogge imminenti, dopo le piogge fino a che non si asciugano le foglie, nei punti in cui permangono ristagni di acqua in condizioni di vento forte. È esclusa l'applicazione vicino a zone abitate, è rispettata la tempistica operativa di intervento precoce, non scoprendo il terreno, lasciando le erbe prostrate. Questa procedura, unitamente a uno sfalcio nel corso dell'estate, consente, con le risorse disponibili sempre più esigue, di mantenere le condizioni di sicurezza stradale, almeno su questo aspetto, che deve essere dalla provincia garantita, nella speranza di aver chiarito la questione e porgo distinti saluti. Queste sono tutte le certificazioni che dicevo che mi ha mandato con il timbro del Ministero, la salute e le varie caratteristiche tecniche. È chiaro che noi come amministrazione vigileremo che queste prescrizioni mantengono, valuteremo che siccome l'autorizzazione è fino al 31-12-2015, dopo quella data verificheremo che il prodotto che verrà comunque riutilizzato abbia le stesse autorizzazioni ministeriali e faremo quello che è possibile per verificare che sia la modalità di spruzzo del discerbante che le caratteristiche di tempo meteorologico nel quale vengono date rispettino le prescrizioni del Ministero della Salute. Bene, Assessore Alianello. Per replica, Consigliere Leli, prego. Sì, Assessore, io volevo dire che non sono assolutamente, penso non siamo assolutamente soddisfatti della risposta e spiego perché. Innanzitutto questo tipo di discerbante, in particolare il componente chimico del glifosato, viene la maggior parte delle volte utilizzato in forma diluita, quindi questo significa che riesce diluita, quindi significa che viene mescolato ad altri prodotti, acqua, sale, quello che sia, comunque in una percentuale tale che è nocivo sia per qualsiasi essere vivente, gli animali che gli esseri umani che vanno comunque quantomeno a mangiare le erbe che crescono su quel terreno. Volevo leggere dieci punti perché ci siamo informati anche noi su cosa è questo glifosato e che tipo di rischi può comportare. Vado velocemente. Innanzitutto non è biodegradabile e a questo proposito volevo dire che la Monsanto, la ditta che lei ha citato prima, è stata addirittura condannata per pubblicità menzognera in Francia, proprio per questo tipo di discorso. Inquina le sorgenti e le acque di falda ed è stato ritrovato nel bacino del Fagrete una fonte usle a Arpat e nelle acque di superficie, questo ce lo dice la Ispra e la Grisole, è direttamente nocivo per l'uomo agli occhi e alle vie respiratorie, agli animali domestici, meglio che non leggo gli effetti che comporta, distrugge la fotosintesi di vaste aree mondiali nel periodo di massima fissazione della CO2 ed è tra le principali cause dell'effetto Serra, questo magari laddove è usato in un quantitativo enorme, provoca aborto e malformazioni genetiche, sterilità anche a dosi molto inferiori ai limiti di legge, quelli che sono certificati, perché lo sappiamo che ci sono le certificazioni, però è comunque un componente che è contestato non solo in Italia ma anche in tutta Europa, provoca alterazioni della mitosi cellulare che può essere collegata al tumore dell'uomo, una ricerca svedese lo lega insomma all'infoma non Hodkin, uccide gli anfibi e lombrichi utili per la fertilità della terra, danneggia la flora selvatica e la biodiversità collegata, api, insetti utili in particolare compromettendo vaste fonti alimentari anche per gli esseri umani, tipo le erbe spontanee e le piante medicinali, distrugge l'humus dei terreni compromettendo nella fertilità e provocando frane di lavamento, erosioni ed allagamenti, l'erba viene completamente bruciata, è quel colore ruggine che vediamo costantemente lungo le cunette delle strade. In alcuni paesi del mondo, tipo l'Argentina è addirittura vietato ad 800 metri dalle abitazioni, proprio perché viene assorbito da terreni e dalle falde acquifere, questo non lo dico io ma è un dossier tirato fuori dal dottore Altieri che è un agroecologo e dalla dottoressa Silvia Franzini la biologa. Concludo, volevo dire anche che queste tematiche vengono per lo più sollevate da privati e da associazioni e non vengono mai prese in considerazione da enti pubblici come la ASL, il Ministero della Salità, che invece avrebbero lo scopo di salvaguardare la nostra salute. Mi risulta che in Parlamento è in preparazione una legge in questo senso proprio per vietarne in modo definitivo l'utilizzo e quindi cerchiamo anche noi come Comune di sollecitare il più possibile per lo sfalciamento, certo non manuale, con le macchine e facciamo in modo ecco che i motivi economici non vadano a prevaricare su quelli della sicurezza della salute. Grazie. Prego Assessore, prego. Io consigliera Leli, non posso mettere in dubbio quello che ha detto lei perché non è nella mia conoscenza, però dire che è gravemente insoddisfatta della mia risposta quando mi chiede che cos'è che viene dato, io gli dico che cos'è che viene dato, non lo diamo noi come Comune di Fabriano, non è un'iniziativa nostra, penso che forse lei doveva dire bene quello che è, però gravemente insoddisfatto se io non rispondo a quello che mi si chiede, allora quello che possiamo fare noi, quello che possiamo fare noi è quello che lei magari dice, io lo riporterò, però se tutto quello che lei dice risponde a verità, cioè questo è in qualsiasi procura della Repubblica d'Italia si porta quel dossier, se risponde a verità la Monsanto, il Ministero della Salute, la Regione, la Provincia, ci saranno dei responsabili che risponderanno per questi danni mostruosi che lei ha citato, però voglio dire a un assessore all'ambiente, il Comune Fabriano, come si può dire gravemente insoddisfatto per una risposta su un qualche cosa che non ha formalmente nessuna responsabilità nella decisione, nella scelta del prodotto, nell'applicazione del prodotto che lei mi chiedeva informazioni su, io ho dato informazioni su, mi ho fatto mandare anche tutte le schede tecniche, poi se ci sono reati gravi come quello che lei dice, benvenga che qualcuno faccia qualche cosa per tutelare i cittadini, animali, flora, fauna, beh, ma capito cosa voglio dire? Sì, prego Sindaco. Mi potresti ripetere i nomi dei due estensori dei dieci punti? Ma perché siccome io questa cosa l'ho già vissuta in provincia e la certificazione su quei prodotti è stata fatta dall'Università di Ancona, Facoltà di Agraria, sulla non nocività per le persone e per gli animali e per questo dopo è stato dato, perché c'è stato un periodo di sperimentazione, prima so che c'è stata tutta una, anche i produttori di alimenti e quant'altro e così via, tanto ci abbiamo avuto pure i raccoglitori di erbe spontanee che si erano lamentati, anche se poi è stato fatto notare che se raccogli le erbe spontanee e succedi io la strada è meglio che te, voglio dire, ti ammazzi da solo, perché lì piombo, catrame e compagnia bella, ma adesso a me interessa sapere i nomi dei due estensori perché io li voglio segnalare a sto professore che ha fatto sto lavoro, Giuseppe Altieri, agroecologo e dottoressa Silvia Franzini, biologa. Bene, esaurito il punto numero 4, passiamo al punto numero 5, interpellanza su installazione cartelli con numero telefonico vigili urbani per segnalare chi parcheggia senza averne diritto nei parcheggi riservati ai disabili, è stata presentata dal sottoscritto il relatore e l'assessore Paglia Lunga, vado a leggere l'interpellanza. Premesso che gli spazi auto riservati alle persone con disabilità rivestono un'importanza fondamentale nel favorire la mobilità e dunque l'inclusione sociale di chi non è pienamente autosufficiente, considerato che non è raro assistere ad un uso improprio di questi spazi da parte di persone pienamente abili e dunque prive di apposita autorizzazione. Chiedo all'assessore di competenza di far predisporre in corrispondenza di ciascun cartello di divieto di sosta parcheggio per disabile l'installazione di un cartello su cui vi sia indicato il numero di telefono del comando ai vigili urbani per far sì che possano essere segnalati gli abusi. Con tale cartello sarà possibile a chiunque segnalare l'uso improprio del parcheggio e tale circostanza servirà soprattutto come deterrente e disincentivo all'utilizzo di zone riservate da parte di chi non ne ha diritto. Prego, Assessore Paglia Lunga. Grazie Presidente nella doppia veste di interrogante e di Presidente. Io penso che sia interessante che lei ha fatto questa interrogazione perché mi permette di parlare di un tema che è un po' controverso in quanto Faveriano ha un numero a mio avviso e confrontandolo anche con altre città un numero estremamente alto di parcheggi per invaliere. Abbiamo 1200 posti riservati e per la città di Faveriano sono veramente tantissimi. Ma nello stesso tempo, come lei sottolinea in questa interrogazione, spesso e volentieri sono abusivamente, tra virgolette abusivamente, sottratti ai portatori handicap perché sono utilizzati da altri cittadini. Con le scuse più variabili che sono di solito, quando i vigili li fermano, mi sono fermato un attimo, non mi ero accorto. E siccome non si vuole vessare ulteriormente il cittadino, si cerca certe volte, cosa che invece dovremmo non fare più di evitare la multa. Nonostante questo l'attenzione è rivolta a questo tema. Devo dire che non soltanto io spesso e volentieri invito a intervenire i vigili con attenzione su questo problema, ma lo stesso sindaco più e più volte ha richiamato a me o al comandante per intervenire su questo tema che soprattutto nei centri commerciali è estremamente esagerato. Dall'anno scorso comunque è stato raddoppiato il numero delle sanzioni che i vigili di Fabriano hanno fatto su questo tema. Sono state 94 nel 2013 e siamo oltre la metà già a questo mese. Sul fatto di mettere il numero esposto, la questione ne abbiamo dibattuta. È conosciutissimo il numero dei vigili che è lo 0732 21610 e tantissime persone ce l'hanno sul telefonino, è conosciuto e tantissime volte abbiamo telefonato. Abbiamo pensato che non possiamo perché sarebbe una cifra troppo grande e soprattutto, ma soprattutto perché poi bisognerebbe farlo per ogni tipo di sanzione e diventerebbe una difficoltà anche avere e dare risposte, abbiamo pensato di collocare comunque, come lei suggerisce, il telefono a Polizia Municipale nei punti più sensibili dove abbiamo rilevato che c'è una maggiore frequenza di mancanza di attenzione e quindi li andremo a collocare all'ospedale nella sede del nuovo comune e in tutti i centri commerciali. Questo è importante perché, come ha detto lei, credo che serva, io credo sempre poco all'essere pesanti con il sanzionamento, credo molto di più invece al deterrente e soprattutto si sta studiando, poi ne discuteremo nella presentazione del regolamento della Polizia Municipale e Rurale, discuteremo perché è nostra intenzione, già si fa, ma vogliamo potenziarlo il discorso insieme alla Polizia stradale dell'educazione, educazione anche civica nelle scuole. Quindi per concludere passeremo a realizzare questa sua richiesta in alcuni punti, per il resto andremo soprattutto sulla prevenzione, sulla informazione e soprattutto sulla educazione, perché credo che questo al di là di tutto sia un problema prima di tutto di educazione. Grazie Assessore Paglialunga per il suo impegno e ne saranno felici tutte le persone che mi hanno spinto a presentare questa interpellanza. Passiamo avanti, punto numero 6 all'ordine del giorno, ulteriori chiarimenti sui voucher lavorativi presentati dal gruppo consigliare NCD. Illustra consigliere Urbani, relatore sindaco. Prego Urbani. Grazie Presidente. Noi abbiamo presentato questa ulteriore interpellanza che vado a leggere così come scritta, per non togliere tanto tempo al Consiglio, perché su questo argomento vorrei però, nella fase di illustrazione, portare dei documenti a conoscenza del Consiglio Comunale affinché se ne tragga una giusta considerazione tutti assieme. Allora, durante il Consiglio Comunale del 27 marzo 2014 è stata discusa un'interpellanza proposta sempre dal nostro gruppo relativa ai voucher lavorativi erogati dal Comune di Fabriano. Segretario, credo che questo argomento sia importante per tutti quanti, non solo per noi. Preso atto che la gestione degli stessi è stata suddivisa in due differenti erogazioni relative ai voucher lavorativi impegnati per le manutenzioni in città rispetto a quelli impegnati per i lavori di manutenzione nelle frazioni, per i quali non esistono atti e procedure di assegnazione con evidenza pubblica, ma si è trattato di appalti stabiliti con tre determine dirigenziali. Ascostata alla risposta del Sindaco che per quanto concerne le manutenzioni nelle frazioni è stato coinvolto il Consorzio Montemaggio-Montenero e non ha voluto o potuto consegnare agli interpellanti l'elenco dei fruitori dei voucher lavorativi, adducendo come giustificazione argomenti quali la privacy, giustificazione che secondo noi non può essere un motivo plausibile o ragionevole, trattandosi di denaro pubblico, parte del quale è messo a disposizione da enti, associazioni e privati. Verificato che il Consorzio Montemaggio-Montenero raggruppa anche la comunanza agraria, Campodonico, Belvedere e Casali e che alcuni responsabili sembrano essere legati a partiti o movimenti politici, tutto ciò premesso chiediamo, prima di formulare le domande perché quella relativa al punto 2 la voglio estrapolare come abbiamo protocollato, estrapolare la parte relativa sia della comunanza agraria, Campodonico, Belvedere e Casali perché effettivamente qui si parla del Consorzio Montemaggio-Montenero quindi non si parla della comunanza agraria, quindi pregherei il Sindaco di prendere atto come abbiamo protocollato la richiesta di non discutere quella parte del punto secondo. Quindi noi chiediamo quale metodo è stato utilizzato per l'assegnazione dell'incarico al Consorzio Montemaggio-Montenero visto che il documento istruttorio numero 109 del 186 2013 non presenta alcune informazioni al riguardo. Chiediamo di conoscere i nominativi e i rispettivi incarichi dei componenti del Consiglio direttivo, togliamo la parola sia, del Consorzio Montemaggio-Montenero. In quali frazioni sono stati eseguiti i lavori di manutenzione e quali lavori sono stati svolti? Chiediamo se è possibile che il Consorzio Montemaggio-Montenero fornisca l'elenco delle persone che hanno soffruito dei voucher lavorativi in quanto trattasi di denaro pubblico, quindi siccome tante persone sapranno chi ha organizzato il servizio, chi l'ha pagati, le fatture che sono arrivate, quindi ci sarà un certo numero di persone che io poi ho chiesto in una ulteriore interpellanza che forse la prossima volta ci arriveremo a discuterla. Con quali criteri sono stati individuati e gli assegnatari dei voucher per le frazioni e se come si prevede per l'utilizzo del fondo di solidarietà, perché ricordiamoci che tutto questo scaturisce da un'interpellanza che chiedeva come era stato impiegato il residuo del fondo di solidarietà, quei 104 mila Euro che la dottoressa De Simone aveva lasciato tra i residui passivi e che erano frutto di una rimanenza della parte del 30% del fondo di solidarietà destinato allo sviluppo, siccome lo sviluppo non erano stati utilizzati, ne erano avanzati da come sapevamo e come anche il Sindaco ci ha risposto 104 mila, per cui l'utilizzo di questi fondi perlomeno si è stato utilizzato, rispettato il criterio del disagio socio-economico, però siccome non possiamo sapere quali soggetti hanno soffruito di questi denari pubblici, quindi è un po' difficile capire se c'è stato il rispetto del criterio del disagio socio-economico. Chiediamo di conoscere se è vero che le riunioni per l'identificazione e l'assegnazione degli incarichi sono state svolte dal Consorio nella sede dei partiti. Il motivo per cui è stata decisa è una procedura diversa tra le assegnazioni dei voucher lavorativi per la pulizia della città rispetto a quella per l'erogazione e l'utilizzo dei voucher nelle frazioni. E in ultimo, chi ha verificato relativamente ai lavori di pulizia e manutenzione nelle frazioni, il programma degli interventi, perché è così che è stato indicato nel foglio istruttorio, nella determina del dirigente e nel foglio patti e condizioni, tutti e tre firmati dal Presidente Biocco Alfonso, quale Presidente del Consorzio Montemaggio Montenero, che ha verificato relativamente ai lavori di pulizia e manutenzione delle frazioni, il programma degli interventi e l'esatta esecuzione dei lavori delle frazioni. Perché abbiamo chiesto questo? Ma nel frattempo che, posso Presidente utilizzare un po' di tempo in più, mi è concesso? Grazie. Perché nel frattempo, siccome abbiamo fatto gli accessi agli atti dove abbiamo ripetuto la richiesta di conoscere i nominativi e siamo in attesa di una risposta, siccome abbiamo fatto un accesso agli atti per ricevere le copie delle fatture, perché nelle determini dei dirigenti c'è scritto che il pagamento al Consorzio Montemaggio Montenero doveva avvenire mensilmente dietro presentazione di regolare fattura. Allora, siccome non avevamo ricevuto risposte ancora e non è scaduto il tempo, voi avete ancora una diecina, otto, nove giorni di tempo, noi che cosa abbiamo fatto? Per incominciare a capire da soli come stavano le cose, chi era il Consorzio Montemaggio Montenero, siamo andati alla Camera di Commercio e abbiamo fatto una visura camerale e io vi leggo quello che è riportato nella visura camerale. Allora, la visura camerale, visura storica della società di capitale, codice fiscale, in quanto codice fiscale questo consorzio non ha nemmeno la partita IVA, per cui molto probabilmente non poteva prendere appalti per lavori di manutenzione, perché non avendo la partita IVA crediamo che sia difficile per un consorzio eseguire dei lavori di manutenzione senza partita IVA, ma la cosa che ci ha stupito è vedere che tra le attività, stato dell'attività, io ve lo faccio vedere, questo è il 21 maggio del 2014 risulta stato dell'attività inattiva, è scritto tutto attaccato, non è che è scritto inattivo, è scritto inattiva, quindi nella visura camerale di questo consorzio risulta che non è attivo. Allora, noi che cosa abbiamo fatto ancora? Siamo andati a prendere i bilanci del consorzio Montemaggio-Montenero per vedere come stavano le cose, se era vero che questo consorzio era inattivo. Allora siamo andati a prendere il bilancio 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Allora, il bilancio del 2007 è un deserto dei tartari perché sono riportate tutti tutti 0, non c'è un'attività né in entrata né in uscita, quindi 000000000, totale conti d'ordine 0. Siamo andati a prendere il bilancio del 2008, un altro deserto dei tartari dove ogni attività è 000000000. Siamo andati a prendere il bilancio del 2009, dove risulta un'altra volta, no, qui compaiono 23.519 di perdita nello Stato patrimoniale che non si capisce che cosa hanno perso. Quello del 2010 ripete la perdita di 23.520 Euro, quello del 2011 è un altro deserto dei tartari, tutte linee, questa volta non hanno scritto 0, hanno scritto le lineette, giusto per cambiare metodo di composizione del bilancio. Poi abbiamo preso il bilancio del 2012 dove ritorna nello Stato patrimoniale questo passivo di 26.908 che sale dai 25.053 a 26.068, poi abbiamo preso quello del 2013 e finalmente nel 2013 arriva nel conto economico 71.176 Euro e l'utile perdite 0 un'altra volta perché evidentemente li hanno spesi tutti. Voglio aggiungere un'altra cosa che abbiamo chiesto anche, siccome nelle determini dei dirigenti era previsto che ci fosse stato anche un verbale di inizio lavori per ogni determina, le determini sono tre, quando iniziava i lavori doveva essere certificato con un verbale e abbiamo chiesto le copie dei verbali, le copie dei verbali dall'amministrazione pubblica c'è stato risposto che i verbali non ci sono, allora scusate, se nella determina dei dirigenti è previsto che l'inizio dei lavori doveva essere certificato da un verbale tra l'incaricato dell'atto che è presente nella determina del dirigente e il consorzio Montemaggio-Montenero. Questi verbali non ci sono e allora è responsabile del procedimento del nostro comune il giorno 15 maggio alle 18.43 ci manda un email, praticamente un anno e mezzo dopo, dove lui un anno e mezzo dopo certifica l'inizio dei lavori. Voglio aggiungere l'ultima cosa, il consorzio Montemaggio-Montenero guarda caso ha la stessa sede e lo stesso presidente del consorzio dell'associazione della comunanza Campodonico Belvedere Casali che siccome è un atto pubblico mi permetto di dare lettura della sua composizione, grazie Giovanna. Quindi abbiamo detto che la sede del consorzio Montemaggio è la stessa dell'associazione Campodonico Belvedere Casali, che il presidente è lo stesso e vado quindi un attimino a leggere quello che è, perché non riusciamo a capire come stanno le cose e vado a leggere il consiglio direttivo dell'associazione della comunanza Agraria Campodonico Belvedere Casali che forma parte integrante e ritroviamo Biocco Alfonso, presidente, Biocco Leonardo, fratello del presidente, Biocco Silvestro, fratello del presidente, Biocco Francesco, nipote di primo grado del presidente, Biocco Marcello, cugino di primo grado del presidente, Lazzarini Giorgio, addirittura abbiamo un consuocero del presidente. Consiglio Urbani, scusi, se ne assume tutte le responsabilità lei, sta facendo la unico e non è fotografato, lo statuto è fotografato nella sede, sta presente nella sede, quindi noi ripetiamo esattamente quello che sta nella sede, se dopo quello è falso io non me ne assumo nessuna responsabilità, noi abbiamo verificato che nella sede del consorzio Montemaggio Montenero che è al numero 45 di Campodonico è presente anche la comunanza, l'associazione delle comunanze e c'è fuori in bacheca la composizione del… ma l'ho letta solamente perché trovo un po' se vuole presidente le faccio vedere anche la foto che abbiamo fatto per dimostrazione che non è che ci inventiamo le cose, siamo andati un pochino a capire perché qui ci sono dei soldi pubblici che sicuramente saranno stati spesi bene, sicuramente le persone avranno operato bene, io non voglio mettere assolutamente in discussione le persone che hanno operato, mi piacerebbe solo sapere chi sono quelli che hanno soffruito di questi voucher, perché poi alla fine tutti questi misteri non fanno altro presidente e sindaco che alimentare dei dubbi, se questi dubbi ce li togliamo una volta per tutte, sarà un bene per tutti quanti, auspicando e lo farò durante la presentazione del bilancio di previsione 2014, presenterò un ordine del giorno dove chiederò all'intero consiglio che se dobbiamo, se l'amministrazione intende fare ancora una volta questo tipo di attività dei voucher lavorativi, avvenga tramite un bando diretto se è possibile, perché ritengo che quello sia la strada migliore, perché il bando diretto noi abbiamo tutta la gradatoria di quelli che hanno partecipato, abbiamo l'elenco delle persone che hanno utilizzato i voucher lavorativi nella città e ci sembra che lì la documentazione esiste, la possiamo verificare, la posso verificare io, la potete verificare tutti quanti, quindi con questa forma di massima collaborazione e trasparenza io ritengo che si possono evitare tanti discorsi, tante discussioni, tante illazioni, perché poi voi capite che non poter conoscere come si sono svolti i fatti, io resto un pochino perplesso. Voglio aggiungere un'altra cosa, che nella visura camerale io trovo difficile anche capire come sia possibile dare l'appalto a un consorzio che è riportato qui, dunque, oggetto sociale.